allora ragazzi come abbiamo detto su telegram l'amico mare mario a mario ha pubblicato questo video qua il cielo tutto rosso in cina mistero cosa sta succedendo e qui andiamo a vedere qua l'allarme è subito suonato per me che vedo il logo di red ronny red ronny ragazzi era un mostriciatolo del sistema aveva la sua tv ha sempre avuto il suo spazio per i giovani per i giovani per renderli veramente saggi insomma e quindi parte subito questo allarme perché c'era droni quindi opposizione controllata andiamo a vedere perché red ronny questa è l'analisi che dovete fare ragazzi vi dovete chiedere perché red ronny pubblica questo video cosa vuole qual è l'intenzione dell'opposizione controllata spegnere quei pochi che hanno cervello che non vogliono andare con con la massa quindi andiamo a vedere questo video ragazzi semplici semplici un video di due minuti faccio ecco subito 165 mila subscribers fatti viene il dubbio e mai condividere video di questo mostro guarda il mostriciatolo red ronny allora red ronny ci parla del red sky quindi red ronny ci parla del cielo rosso ok quindi qua in questo video si vede semplicemente in cina il cielo diventa rosso è molto facile per l'elite ragazzi creare qualsiasi cosa in questa gabbia dove noi ci troviamo ok cieli rossi questo è il minimo che possono fare ma andiamo in descrizione adesso perché loro ovviamente 443 commenti intanto vediamo la descrizione e qui la cosa chiave qua ok improvvisamente il cielo diventato tutto rosso a jushan in cina le persone sono rimaste sciocchette oh la la mai era accaduto un fenomeno simile alcuni hanno detto di aver visto una strana luce nel cielo poi il cielo si è tinto tutto di rosso nel video si vede anche come velocemente il colore rosso scompare tanti sostengono che un segno di qualcosa di importante stia per accadere marina tonini che è molto sospetto questo nome perché lo segnala redroni mi ha segnalato questo articolo del 2006 attenzione qui vediamo la parola sion ragazzi sposa di sion vediamo qual è la loro intenzione ragazzi questo zion si ripete un po sempre allora miei amati figli decidetevi ora nella scelta o con gesù o con satana l'ora è battuta il cielo e la terra si tingeranno di rosso fuoco e il tempo dell'apocalisse porca puttana che segna la fine la nuova primavera nord mondiale e per entrare a profumare la terra di merda e di conteneri colori e deliziosi profumi e Gesù che viene vittorioso in mezzo a voi quando il cielo si tingerà di rosso e ogni cosa sulla terra si colorerà sappiate che il castigo di Dio è vicino e allora pecore non fate niente perché insomma ci pensa Dio e allora non vi resterà che a rifugiarvi sotto il mio manto e forse io vi potrò proteggere forse però ma tutto si può trasformare col vostro impegno unitevi alla battaglia spirituale io mentre loro vi battagliano materialmente voi fate la battaglia spirituale io sarò a capo di questo esercito la cui arma sarà quella espresa dalla parola del mio figlio l'amore pecore pacifiche amorose così si combatte questa guerra e per coloro che credono questo è un tema che ho già trattato nei miei video siccome loro devono neutralizzare i credenti che potrebbero contrastare il sistema senza paura se avessero palle le dicono che gli dicono che sta arrivando Gesù e quindi non dovete fare niente apocalisse significa rivelazione no ma loro ovviamente hanno messo in testa la pecora che insomma sta per finire il mondo però non ti preoccupare perché Gesù sta per arrivare ok questo è il veleno in pochi minuti ragazzi semplice semplice quando vedete mostri con cento migliaia di view di subscribes non condividete questi mostri capito qual è il succo quindi di questa roba qua dire alle persone che non dovete fare niente perché ci pensa Gesù mostri totali questi sono mostri e voi coglioni che ancora condividete sta roba scusa mario ma mi è scappata però rispetto e tutto però porca puttana porca troia non condividete sta roba pensateci prima di condividete sta roba ciao ciao alla prossima